Ok, facendo i conti, tra pezzi e mano d'opera viene 2300 dollari più tasse. Ho controllato il valore del suo van. Con così tanti chilometri varrà intorno ai 5000 dollari al massimo. Io forse le consiglierei di prendersi quei soldi e investirli in un veicolo diverso. No, beh, non posso farlo. Non posso farlo, vede, perché... Va bene. Ho impegnato molto tempo e soldi per costruire gli interni e... Molte persone non ne capiscono il valore, ma non è qualcosa che possiamo... Io ci abito. È la mia casa.